Sempre, far quello che mi piace E vivere ogni istante come un gioco Assaporare i sogni Guardano tutte noi Noi? Cioè scusa Ricky, guardano tutte te Questa è già passata tre volte per guardarti Oppure sono tre gemelle Matricola in arrivo Ciao Serve aiuto, sono il portavoce degli allievi della scuola Sì, per favore, potresti dirmi dov'è la segreteria? Credo di essermi perso Capisco La segreteria è da quella parte Però il segretario non c'è adesso No Ah, eccolo, è lui Aspetta Devi parlargli ad alta voce perché non ci sente bene Sì, grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille